buongiorno benvenuti a tutti abbiamo approfittato oggi della presentazione ufficiale di un nostro nuovo giocatore di walter per presentare a tutti voi quello che è il nostro nuovo socio di maggioranza quindi con estremo onore io do il mio miglior benvenuto a dimitri in mezzo a noi e il mio personale benvenuto a walter e adesso lascio la parola loro che sono i protagonisti di questa giornata e quindi lascio la parola prima a dimitri mai mai best welcome to you I hope our ticket sales will increase and 200 women stay in the queue because walter game but first of all I'm glad to see this gentleman in our club because I saw his game his game that's what we need I wish I wish you well there good luck in this team and I hope we will show to get a strong result I think the worst is enough the main is the game and the game will show I hope that you know everything what you can do you try to realize here and this can to club and everybody support you and help you and all the team and the coaching staff so be strong play like a tiger down the court man see ya ok semplicemente dice che qui per dare il benvenuto a walter e dice che sei in questo club l'ha visto giocare sa quali sono le sue qualità e ha visto che vuole vincere e dice che è il suo stand e dove essere qui giocare il rilassarsi trovare confidenza con tutto questo ambiente essere forte giocare come come una tigra e il con ce tutti sono solo io ti erano lo soporteranno e in questo suono diciamo così inizio di avventura qual è il run too Varte, la vostra prima opinione su questa nuova avventura? Buongiorno, buongiorno. Per me è stata una buona esperienza, una buona esperienza per me, come giocatore. Noo Camtun ha una buona storia, ho seguito i ultimi anni, ho avuto alcuni amici che giocano qui, come Alex Taez, e l'ultimo James Veldent. Per me è un honore di essere in questo club, ho cercato di aiutare in ogni modo possibile, aiutare i giocatori che stanno facendo ora, e con me cercando di fare qualcosa di speciale. Dice che è molto contento di essere qui per una nuova sfida, per una nuova avventura, conosce la storia di Camtun, è stato un club molto importante, conosce alcuni dei giocatori che sono passati da qui negli ultimi anni, per esempio Alex Taez o l'anno scorso James Veldent, per lui per cercare di dare una mano alla squadra, come giocatore, per cercare di aiutare proprio la squadra a crescere ancora di più e a fare tutto quello che serve sostanzialmente per il team. Qualsiasi tipo di domanda, partirei con le domande a Walter, così poi lo possiamo anche lasciare libero nel caso di andare da sema a fare i test atletici, poi vediamo che c'è anche Daniele e Danfiori. In che condizioni di riforma hai visto che non andiamo a crescere la competizione con gli studenti da qualche tempo, come si sente se è già pronto per iniziare? I understand, I haven't played in a long time, I was working at home, I was trying to do, come quello che mio amore mi permette di fare, ma io sono il tipo di giocatore che sono in forma e ho utilizzato qualche pratica, e sarebbe bene. Dice che se bastano un po' di allenamenti per tornare i formati, non gioca da qualche tempo, ma se si sempre è allenato da solo e faccio tutto quello che serve il suo corpo e pensa che già… No, il suo forma è meglio di mio, sicuramente. I è forma come Sergio, come Sergio. Sergio è un defendatore di stronti. Sì, è un defendatore. È un defendatore. Quindi, come se ti mangiare i allenamenti è potato in una condizione, per poter giocare? Can vi descrime il suo caratteristico? Can vi descrime il tuo giocatore? Per me, sono un giocatore aggressivo. I want to win every time I probably would fight with everybody to win I think this is one of the things that people probably don't like but I would fight with everybody to have a win and I think since I was little I was the same way and I would never change that and I just like to win, I'm a winner I like to involve everybody to be on the same page and I think this is my character he is a warrior but I don't like to talk about myself I like guys like him to talk about myself I talk a lot about himself, he needs to practice he doesn't have too much time, he needs to sleep well he's a player, not a journalist he needs to sleep, too frequently he needs to sleep after America I don't like to talk too much, I don't like to deal yeah he's a winner, he wants to win in every way he wants to put his companions on the same page he wants to fight for him, he wants to fight for him and he's a leader, these are his characteristics and he's aggressive, intense he's nervous, he's nervous did you see the game yesterday, your impression about the team? I like the way they play, I like their offense I like that they share the ball a lot and they know each other, you know I think this is very important when you have a young team like they have and I think they like each other, this is the most important thing and my compliment is to come and be in the same page with them right away he says he's liked, he's liked how they attack because they pass the ball a lot in attack, they're all involved so it's their task to enter into this objective system because Iri is concerned about the team because they know each other, they talk about each other and they play well in the same page ok is it? ok I think the rest is after the game the rest is after the game the rest is after the game let's go let's go, he's taking over now now you stay and I'm going to work no, these people like basketball more than food you know yeah, no more than food which way do you know the team of Cantu? I met one guy on the Euro Cup drawings and I just ask from which team you are so we just introduce like this and also, and also, and also Andriana Celentano movie I like the bet I like the bet I like the bet when he put the bet with a woman you remember this the bet was on the street they would do the 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 so I don't know what the prefer more Andriana Celentano maybe more and it was like this Il vostro primo impressione è quando diventai l'ownerio di questo club? Il mio primo impressione è che ho visto molti persone che piacciono essere in un gioco. Il mio primo impressione è che ho avuto l'impressione prima di comprare Ted e tutte le persone che lo seguono. È un po' come l'impressione del primo basso. Ha visto la passione che c'era qui a Cantù e dopo il Pizzo. Lui è proprietario di una squadra in Russia che è nata lui spesso. Qui arriva in una società che ha 70 anni di storia. Si è notato qualche differenza dell'approccio? In Russia sei l'ownerio di un club che cresce con te. Qui c'è un club con una storia greca. Non c'è una differenza per te? Non c'è una differenza per tutti i club che ho avuto. Ho avuto un progetto. Non c'è una differenza per la squadra. Perché, in Russia, la squadra della squadra dipende dal budget del municipale. E solo il mio club, che è Red Oktober, è una squadra che funziona con il privato e funziona con il profit. e quindi ho avuto il modello qui qui in Can2. In quanto riguarda le spazio, hanno le tiggete sales. In questo modo, a improtere le persone che seguono il team. Non solo alle tribunali. In questo modo, a creare una squadra che comprate con i club. In questo modo, a creare una squadra che sono diverse. In questo modo, è un parallelo. In questo modo, è un parallelo. la città dove è locata, gioca per le persone locale, e qui voglio fare lo stesso. ma diventiamo partner in questa realtà, però c'è sempre il fatto che questa squadra sia, come Russia, sia comunque l'espressione di una comunità, diciamo, una comunità locale. La scuola per la nostra squadra, la scuola per la nostra squadra, e in qualsiasi pensi che la nostra squadra può realizzare questo scuola? You know, I'm like a professional sportsman, you know, when you put some target in it to achieve this target, and this season our target is to be in a playoff zone, and we try to do the best, I mean the coaching staff and the players try to do the best to be in a playoff zone, and after time will show, you know, for next year the target is the same playoff zone, because this is sport, you know, sometimes it has a strong budget and strong players, and you lose in the first round, and the target will be the same, playoff zone, and also, I want to, I want to that next season we need to do a strong job to play EuroCup, because next season EuroCup will be only 24 teams, you know, idea to arrive to this competition. Mi dice che, ovviamente, gli obiettivi sportivi dipendono da tutta una serie di questioni, perché tu puoi avere giocatori forti, investire molto, ma non uscire al primo turno. Comunque, già da quest'anno l'obiettivo è cercare di arrivare in zona a play-off, e anche dalla prossima stagione comunque è ripetere il medesimo obiettivo sportivo, cioè mettersi per le formazioni che ambiscono a partecipare al play-off, e in più, un obiettivo che è difficile, l'anno prossimo voglio partecipare all'EuroCup, perché l'EuroCup prevederà solamente un format con 24 squadre, quindi, però, è una cosa non semplice, ma è uno degli obiettivi che vorrebbe realizzare, perché è giusto che ci si ponga agli obiettivi sportivi. Ok. Ok. Se si può chiedere, l'obiettivo spettamente sportivo, l'obiettivo è invece societario, se piavano che la moglie si sta occupando di portare la questione legata al Palazzo 7, lui la sta seguendo, gli le ha dei consigli, la sta occupando anche lui in qualche modo. Per quanto riguarda il palazzo, la vostra esposa era interessata a creare un nuovo palazzo. Dovete dire qualcosa su questo palazzo di nuovo? Penso che ora la forma in cui dovremmo parlare è come arrivare a questa squadra in playoff zone. Questo è quello che dovremmo concentrare. Io vedo che gli italiani e gli europei e i russi non vogliono parlare molto. Per quanto riguarda il palazzo, vediamo. Non ricordate che siamo ancora in la ultima pagine, in la ultima posizione. Non bisogna parlare di parlare di palazzo di palazzo. Quando ci saranno alcuni passaggi realizzati per informare. Ma prima, non è importante parlare di parlare. Ora il target è di evitare il ultimo palazzo in Serie A. E questo è per cui tutti hanno bisogno di essere concentrati. Mi dice che la cosa su cui è più importante essere concentrati adesso è la situazione sportiva. Siamo comunque all'ultimo posto in Serie A. E la cosa su cui dobbiamo concentrarsi tutti è appunto migliorare quest'ultimo posto. Perché in Serie B possiamo giocare in questa palazzo. E dice che in Serie B possiamo giocare in questa palazzo. E questo è quello che ho bisogno di pensare. E quindi la cosa su cui pensare adesso è sistemare la situazione sportiva. E andare e poi cercare di dare un playoff. Esatto. E sa che comunque si parla molto e è giusto. Ma lui dice che adesso concentriamoci per passo dopo passo e prima pausa della situazione sportiva. per rispondere a questa risposta. E ho detto che io ero nato in Italia. E in Italia quando il ragazzo voleva essere casato, lo prometteva tutto. Dopo che si è casato, è come la politica. Quindi voglio fare un passo per passo, lentamente e lentamente. Come ho visto in Asia, ha detto che prima di sposarsi si è riuso a promettere un sacco di cose che poi magari non si realizzano. come la politica. Invece è meglio avanzare l'impasso alla volta e fare qualcosa di più. Andre, in Italia è lo stesso, no? Sì. Anche qua. Da giocatore, da appassionato, ha un'opinione qualificata sulla squadra. Il primo passo stabilitivo di oggi. Cosa pensi di com'è attrezzata la squadra per risalire dall'ultimo posto? Se sei un'opinione qualificata, sei un'opinione qualificata, sei un'opinione qualificata, sei un'opinione qualificata, e sei un'opinione qualificata con Walter Hocci. E ora hai considerazioni di questo team? Il primo passo non è di Walter Hocci. Il primo passo è di supportare il coach e i giocatori, per essere un'opinione qualificata. Perché in un'opinione qualificata, si sono collegati, ma non si troppo. e ora si sono collegati vicino. E io credo che potrebbero essere più forti insieme. E Walter, il ragazzo che ha esperienza a giocare, ha aiutato di essere insieme, di essere un'opinione e una famiglia sulla squadra. Dice che la prima cosa non è stato bene Walter Hocci, ma supportare il coach e la squadra, in modo che riescono a stare ancora più insieme e per fare meglio tutti insieme. Oggi è un giocatore di esperienza, sicuramente può dare una mano, ma la prima cosa è ammuntare la condizione di solo questa già piaciuta della squadra. e io mi imponevo questa domanda chiedendo. Lui dice che bisogna fare un passo verso il playoff e questa squadra è ultima ed è partita con l'obiettivo di salvarsi. Basta oggi per arrivare lì o è in previsione qualche altro? Il nostro primo gol questo anno è la Serie A. Ora abbiamo un altro gol per cercare il playoff. Per cercare questo gol è Walter Hodge è ok o dobbiamo fare qualcosa di altro? Questo è la seconda domanda. Seconda domanda per l'argento. 10 euro per il club. Andrei accepti. Questo è includere in taxis. No, non so chi ti ha detto che la mentalità deve essere la mentalità di vincere non la mentalità di vincere. Chi ti ha detto che il primo target era di stare in questa area? Chi ha detto questo? Show me questo ragazzo. Non è normale. No, non so. Ma dice che il gol deve cambiare la mentalità ed è subito una mentalità vincente perché questo può aiutarci a migliorare e quindi non pensare subito alla salvezza ma cambiare un po' la mentalità e pensare a vincere. ho visto alcune squadre che giocavano e perdere i giocatori e credo che ci saranno più forti che queste squadre in alcuni giorni. Dice che ci sono delle squadre che lui ha visto giocare e secondo lui siamo più forti di queste squadre. e per essere un leader e per essere un vincere tutti bisogna essere insieme tutti bisogna essere insieme Valter, Haislip e anche il presidente Michalzana e Masconi tutti bisogna essere insieme e questo sarà il risultato. Non voglio dire che oggi viene un player e la mia idea è che bisogna lavorare con i ragazzi che lavorano per te da inizio della season. Dice che non vuole dire che oggi arriva un giocatore o l'altro. Se vogliono aggiungere alcuni giocatori è meglio aggiungere Sergio che, sai, sai, perché a volte bisogna supportare e se questo ragazzo può supportare è sufficiente. È sufficiente. È sufficiente. È sufficiente. Non vuole far arrivare un giocatore dopo l'altro. Dice che non vuole dire che oggi arriva un giocatore al di là del suo affettamento per Sergio come difensore la prima cosa è diciamo di lavorare sul gruppo che c'è già insieme. perché perché se sono come un giocatore e vedo che questo ragazzo veniva al mio giocatore prima del gioco ha detto essere forte io lo farò sicuramente lo farò sicuramente ok ti tu Andrea hai con lei di azionista di maggioranza di azionista di maggioranza in un posto in cui c'è già un presidente ci sono un assetto consolidato ma con competenze gli non 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 ti 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 ho Like mai il ci risposte a sentire 20 ore l'intervento della squadra russa e l'intervento suo a Cantuolo volevo mettere in relazione in questo senso quanto di diverso c'è per essere primeggiati in Russia per cercare di primeggiare in Russia dove credo lui voglia fare e quanto invece di più o di meno servo per fare l'Italia per arrivare in la prima parte in Russia e per arrivare in la prima parte in Italia c'è un altro budget per sicuramente per sicuramente voglio dire che la russa la Liga di VTB oggi è la più forte in Europa la più forte in Europa molti Euro Cup e molti EuroLeague in Europa in Europa come sempre vittibole vittibole l'Italia per i due o tre anni è una professionala e l'idea con la FF ma è un'independent perchè la Federazione della FED ha giocato il diritto di mettere una campione nazionale e se si segui quello che hanno fatto, hanno fatto un buon lavoro perchè c'è molti professionali basketball players iniziano e la storia è che la squadra di l'ultima canta la squadra di l'ultima e non è solo il budget perché la squadra è stai insieme ma separato dalla federa perché la federa è responsabile per la squadra, la squadra, la squadra, la squadra, la squadra e la squadra che ha respectato i fani e le strong players stai diversi e anche in la russia league, in VTB league, le team non paye money per partecipare in la natale championship e la squadra è diversa le league paye le team money per partecipare se io play playoff zone, il mio budget è più se io play second place, il mio budget è più se io prendo i soldi che la league mi ha dato quindi è una storia differente quindi la league work with TV rights with advertising rights they have some sponsors and the VTB league is, believe me, a very professional level I mean from the organization I mean from the organization si dice che è completamente differente cioè è diverso la domanda che facevi perché la VTB league è una lega molto organizzata con tante, forse la lega più forte d'Europa al momento con molte squadre di Eurolega e di Eurocup e soprattutto un'organizzazione che è diversa da quella della lega italiana perché è una lega che è indipendente dalle federazioni nazionali ha una sua organizzazione che è attaccata da queste che rispondono a tutto il battito in generale e non si paga per partecipare ma poi è il contrario è la lega che sostiene i team che a seconda degli obiettivi che raggiungono quindi playoff così e che si sostiene su diritti televisivi, diritti commerciali ma la relazione tra i team e i fans in Italia è più vicino qui c'è più visita, più fans e qui le team cercano di giocare più quick basketball non usando strong No. 5 per esempio, come con VTB quindi i team non trovano strong, big guys come in tradizionale, let me tell you, european, basketball quindi qui è la quick basketball che piace i fans e per me è incredibile che sempre l'Arena è piena questo è completamente diverso e è incredibile quando sempre l'Arena è piena e i fans cantano una song da l'inizio al lato e anche in Italia con la loro singe perché io conosco molti songs e non capisco la tradizione ogni team come l'ENEC che gioca contro la Volgograd per 5 ore si gioca da l'ENEC a Mosca 3 ore si gioca dopo 2 ore a la Volgograd quindi le persone spendono il tempo sempre in avanti e ha magari 1-2 in pratica durante la season qui, perché ti viazi principalmente via bus, hai più tempo per la pratica è anche diversa le distanze sono più lunghe si fanno molti più viaggi aerei si tende a prestare a allenarsi meno e a portare più tempo nei trasporti invece anche per le distanze geografiche il fatto che si percorrano qua in Pullman c'è più possibilità di allenarsi e non fare solo delle sessioni di tiro come si fa in Russia io sono un grande appassionato e un praticante per non sapere se l'esperienza di partecipare per la partita ma magari lo vediamo in fine sei anche un giocatore per l'epassionato di questo sport vuoi fare qualche pratica qui? o con il team perchè mi chiesti domani vado a venire a fare qualche giro domani voglio giocare contro Walter 1-1 tre punti dov'è? perchè abbia lo scopo perchè abbia lo scopo abbia lo scopo dopo che andrea abbia lo scopo quindi voglio che noche e gli vedi vorrei che i vedi perché lei non ha vinto perchè abbia le Kidio c'è il battine ma che guardano non ha vinto avrò sicuramente ma che giocano per l'appare in quanto gioco volando Ok, grazie.